Biancolino, qual è la scena che hai visto oggi pomeriggio e ti sei subito lanciato per cercare di disarmare questa persona? Ma guarda, una scena bruttissima, una scena che per fortuna non mi è mai capitata di vederla. Una persona che dà colpi di martello all'altra persona in testa, sembra più una scena da film. Come sei riuscito a fermarlo, a bloccarlo? Ma con spinte, ad un certo punto l'ho abbracciato, me lo sono tirato dall'altra parte, per fortuna sono riuscito a togliergli il martello dalle mani, è caduto e poi è scappato. Per fortuna, perché non so come poteva finire questa storia. Hai avuto la sensazione che lui potesse anche continuare a colpire per martello la donna? Ma guarda, vedendo la situazione, vedendo un po' tra virgolette come dava questi colpi, secondo me non finiva bene. Non finiva bene perché tra virgolette è stata un po' fortunata che sono riuscita a tirarla un po' fuori dal virgoletto, perché non so se restavano dietro dal virgoletto che non passava nessuno come poteva finire. Fortunatamente c'eri tu, ti sei lanciato, però purtroppo registriamo invece anche da parte degli altri cittadini una sorta di paura nell'intervenire. Ma guarda, un po' di paura li capisco, li capisco perché vedi una scena del genere, vedi sangue ovunque perché la signora era piena di sangue. Capisco che può venire la paura di essere colpiti, però non ti nascondo che all'improvviso pure io ho pensato, ho temuto di qualcosa un po' più serio nei miei confronti. Però sai, mi è venuto distinto di proteggere e di far finire tutto quello che stava succedendo. Lui minacciava, urlava qualcosa? Sì, urlava ma non si capiva, più che altro non si capiva, poi in quel momento, ti devo dire la sincera verità, non capivo neanche quello che dicevo perché ero più preso tra paura e forza di fermarlo. Tu sei l'idolo della tifoseria bianco-verde, il pitone, il bomber per eccellenza, adesso ti senti anche un eroe dopo questo gesto. No, ma guarda, eroe no, ho solo fatto quello che mi sentivo, è un bel gesto, penso che mi auguro che non succeda più in qualsiasi posto.